Eccoci qui, come state? Un saluto, ben ritrovati, un buon weekend anche da parte mia dopo il video di questa mattina di Leonardo Martinelli Come state? Mi raccomando, commentate numerosi, partecipate alla community, lasciate un like e iscrivetevi qui se non avete ancora fatto Mi raccomando, ci contiamo, siamo tantissimi, più di 100.000, ma mai abbastanza quando si parla di Milan Questa è la maglia che potete vincere come? Scaricando gratuitamente l'app di numero 10 dal link che vi metto qui sotto nella descrizione Ed ha questo link, scrivete poi il vostro nome e del giocatore del quale vorreste la maglietta Allora, tante notizie, intanto partirei subito da una... poi vi devo far vedere un video curioso No, volevo commentare rapidamente le parole di Ballotouret Qualcuno si è un po' risentito Ballotouret che ha detto Sono arrivato in un club molto grande e storico, ricordiamo che è andato all'Everton È stato molto strano, non me lo aspettavo, pensavo che sarei rimasto al Milan All'ultimo minuto ho ricevuto una telefonata dalla mia gente che mi ha detto che il Fulham mi voleva Non ho esitato, ho detto sì, è successo molto velocemente, sono un grande fan della Premier League E seguivo già il Fulham della scorsa stagione, hanno giocato un ottimo calcio So che migliorerà qui, per me non puoi rifiutare il Fulham Ho visto come hanno giocato la scorsa stagione, è stato difficile per me rifiutarli Quando ti chiamano il Fulham, come fai? Ragazzi, meglio così Nel senso, non è che ovviamente dove va deve lucidare il club dove va Peccato che non sia dato via prima, altrimenti avremmo preso un giocatore al suo posto Retroscena tra l'altro di mercato Perché il Milan aveva fatto un tentativo per un giocatore molto giovane Considerato un baby talento Adesso vi do tutti i dettagli Eccolo qui, si chiama Christian Listez Che ha una carta d'identità da fare invidia a noi Che siamo quarantenni o trentenni o cinquantenni Appena mi carica la scheda in realtà stavo prendendo un po' di tempo Mi sembra che abbia 18 anni Ecco qui, sì, 18 anni, ungherese, il talento migliore dell'Ungheria Gioca nel Ferenvaros Tre partite e due gol quest'anno Diciamo di mestiere trequartista ed esterno Ha tre presenze e un gol nell'Under 21 ungherese Il problema è che però Ha fatto anche 57 minuti nei preliminari di Champions League Il problema è che questo talento Se l'è preso purtroppo L'Aintat francoforte Che l'ha pagato un po' di più rispetto a quello che il Milan offriva Che è poco, lo pagano 4 milioni Però insomma È comunque un giovane di 18 anni Vedremo, sperando che non diventi poi Un rimpianto di mercato Poi vi devo far vedere delle immagini Faccio vedere questo video Che ho recuperato Perché Con la Roma Sapete che ci hanno espulso Tomori Abbiamo detto In 11 contro 11 non c'è stata storia Volevo farvi vedere questo contributo Siamo al cooling break Guardate Paredes Murigno Esha Rawi Paredes dice Esha Aspetta che riparte il video Esha Guardate Tomori ha munito E alza la gama Volevi dire Fallo Fallo a munire Esha Tomori ha munito Fatti fare il fallo E lui sì sì Con Murigno Che anche lui Sostiene no? Questo per dirvi Che è una squadra Che non ha visto palla Che dopo 20 minuti C'è il C'è il cooling break E invece di dare indicazioni Proviamo a fare questo Quest'altro Pano del Facciamola munire Capite che l'essenza Del calcio Viene meno Ed il sigillo La conferma Che da quelle parti Sanno soltanto Metterla sulla rissa E il loro schema è Facciamo saltare la testa All'avversario Facciamola magari Espellere Davvero Incredibile Questa immagine Poi succede anche Da altre parti Ecco Però non credo Che sia lo schema Del cooling break Guarda caso Questa immagine Proprio con la Roma Di Murigno Ma chi l'avrebbe mai detto? E hanno perso Pur con l'espulsione Di Tomori Con la fine Un po' di paura Ovviamente Però fortunatamente Abbiamo vinto E alza fallo a munire Fatti fare fallo Grande Grande Paredes Blef incredibile Allora Poi proseguiamo Stanno circolando Le cose su Musa Del quale adesso Vogliamo parlare Prima però Il capitolo Giroux Ieri Abbiamo raccontato La situazione Poi nel mio canale Personale Quale vi invito Iscrivervi Qui sotto c'è il link Ho fatto un breve video In cui dicevo Sta bene Ecco Sta bene Sta meglio Rientra oggi A Milano Poi la squadra Ha ancora un po' Di riposo Riprenderà Poi Martedì Gli allenamenti Anche lui Non so se poi Andrà a fare Qualcosina prima Altrimenti Riprenderà Anche lui Martedì Con un lavoro Che dovrebbe essere Personalizzato O magari Semigruppo Il suo target Il suo obiettivo È fare poi Gruppo Cioè lavorare in gruppo Con i compagni Al più tardi Giovedì Se riesce Anche mercoledì Non dovrebbero esserci Problemi per il suo impiego Dall'inizio Nel derby E questa è una cosa Che ci dà Estrema Felicità È chiaro Che però Da un lato Bene Che non arrivi Stanco Perché ha giocato Appena 25 minuti Sui 180 Della Francia Che fare un'altra Partita amichevole Benvenga Che sia tornato L'avevamo detto Si era mossa Anche la diplomazia Rossoera Ma lo stesso Giroud Lo ha detto A De Champ Allo staff Francese E dall'altro Però L'incognita Può essere un po' La condizione Perché di fatto Arriverebbe Con Nell'ultima settimana Lavoro pressoché Nullo Vediamo un po' Che tipo di lavoro Si riesce a fare Sulla sua condizione E speriamo di metterlo Non dico a puntino Ma quasi Perché insomma È il derby È il derby E non c'è bisogno Di altre spiegazioni Poi su Che cosa Cosa succede Altre cose Legate all'attacco All'attaccante Ne parleremo Detto questo Questa Pausa Delle nazionali A me Crea sempre Un po' Di preoccupazione Tra l'altro Ieri Leao A un certo punto Mi ha fatto spaventare Per lui Perché ha avuto Un contrasto Molto Ruvido È subbalzato Ed è caduto È stato a terra Adolorante Fortunatamente Poi Si è rialzato Ha proseguito Nella sua partita Con il Portogallo Però Insomma Anche lì Non si può stare Tranquilli Mai La mia proposta Che venga raggruppato Vengono raggruppate Queste settimane Nazionali Qualificazioni In un mese Mi sembra che Dal prossimo anno Si ridurrà Si farà qualcosa Di un po' Più concentrato Però fate tutto Come un mini torneo Pack Così poi che Se uno si fa male A meno che non si faccia male All'ultimo Lo perde la nazionale Il danno è sulla nazionale Non sul club Che paga poi il giocatore E quindi Questa è la mia Idea Proposta Non soltanto mia Non è che ci vuole una scienza Quindi Mercoledì O giovedì Gruppo Per Olivia Giroux Sperando domenica Di cantare La voce non c'è più È colpa di Giroux Se volete la maglia di Giroux Magari Scaricate l'app Di numero 10 Da questo link Poi Mi avete scritto in tantissimi Tante domande Su Musa Non so Chi abbia raccontato qualcosa Chi abbia scritto O detto Questo davvero Mi è passato Mi è scappato Però visto che Mi avete scritto in tanti Credo che sia stata una cosa Abbastanza diffusa Di un racconto Di un mal di pancia Di Musa Che Sarebbe già stufo E Non contento Del fatto che Più all'Ino Lo veda Soltanto nel video precedente Ho visto almeno 7-8 messaggi Ma anche ieri Altri 3 o 4 Quindi Poi magari qualche messaggio Mi è pure scappato Un campione considerevole Non so chi l'ha detto Non so chi l'ha scritto Faccio presente Che Musa Ha parlato proprio ieri Ha detto Lui La mia prima impressione È stata fantastica Ci sono tanti grandi giocatori In squadra La concorrenza è alta Lo ammette Non c'è nulla di male Ha 20 anni Quindi questa è un'opportunità Per me di migliorare E mettermi alla prova Il mio ruolo Ho giocato come 6 E come 8 Ma personalmente Sento di dover crescere In tutte queste aree Posso fare il mio lavoro Ma sento che posso fare Molto meglio Mi sento più sicuro Quando sono un 8 Quindi posso andare In profondità Sento che Essendo un 8 Posso essere un 6 E un 10 Allo stesso tempo Quindi Estrema d'utilità Lui l'anno scorso Ha giocato anche Da esterno di destra Là davanti In attacco Tra l'altro È una mezzala È una mezzala Che può andare A inserirsi Che Riconosce Che c'è concorrenza Al Milan La concorrenza Che al Valencia Non c'era Parliamo di un giocatore Di 20 anni Che ha già fatto Un mondiale Più giovane Della storia Degli Stati Uniti A fare il mondiale L'ha fatto anche Molto bene A me aveva colpito Musa Però pensavo Potesse essere Un colpo Ai tempi Fuori portata È arrivato qui È arrivato magari Anche un po' più tardi Rispetto ad altri E lì in mezzo Al campo Giocano 3 1 Krunic Piaggio oppure no Insostituibile No Devo stare attento Devo togliere Prima questo dito Insostituibile Perché lo può fare Al massimo Renders E altri 2 Sono delle mezze ali È chiaro che 3 partite Hai fatto giocare Quelli già Negli schemi Che sono arrivati Prima Renders Loftus Chek Chi ha scritto Detto questa cosa Non lo so chi sia Mi permetto Quindi di dire Non conoscendo Il mio punto di vista Che ha scritto Una grande Mi Puntini puntini Scusate È una Cavolata È una fake news Incredibile Non sapeva che cosa dire O scrivere O raccontare Come si può pensare Che un giocatore Di 20 anni Possa avere Il mal di pancia Dopo 3 partite Anzi Anzi A me A me in questa Di creazione Dimostra Tanta maturità Perché capisce Che la concorrenza Alta Ma per lui Può essere Un'opportunità Di crescita Perché quando Esci dal comfort zone E hai Situazioni Magari nuove Concorrenza Sono stimoli Per diventare Ancora più forte Ora Faremo 7 partite In 21 giorni Si giocherà Ogni 3 giorni Quindi Al 100.000% Musa Le sue partite Le farà Tra l'altro Quando è entrato Col Torino Ha fatto un'accelerazione Che mi ha ricordato Il miglior che si Ho tanta voglia Di vedere Ho tanta voglia Di vedere Ciucuezze E adesso Arriva anche il suo momento Ma bisogna stare tranquilli Non bisogna pensare Ecco Primo Qualcuno di voi Ha scritto Perché Pioli Non vede Musa Ragazzi Sono 3 partite 3 partite Fai giocare Quelli Su cui sei un po' Più sicuro Non è che non lo vede Poi ci sta Che anche Regime Musa Sia un'alternativa Togliere il posto A renderselo Of to stick Non è facile Bisogna ragionare Però sui 15-16 E nei 15 Musa C'è assolutamente Con prospettiva Di trovare Sempre un po' Più spazio E magari Diventare titolare Ma glielo auguro Magari Non è quest'anno Magari prossimo anno Magari Già diventi un cotitolare Benvenga Però ecco Non facciamo un caso Dove sinceramente Non c'è E questo Non è il caso Di parlare In questa maniera Così Preoccupata Anzi Lasciatemi dire Che ho estrema Curiosità Di vederlo All'opera È uno dei giocatori Che mi incuriosisce Di più Prima era Renders Ma adesso Mi sembra che Renders giochi nel Milan Da un paio d'anni Almeno Quindi mi sto già Abituando a lui La prossima La prossima curiosità Ovviamente Sta su Musa Che è un giocatore Molto valido Molto giovane Quindi con ampi Margini di miglioramento E mi sembra Che abbia già capito Dov'è Quale occasione ha E che cosa può fare Anche per crescere E quindi Sono sicuro Che ci darà Delle belle risposte Scatenatevi con i commenti Su tutto Quello che abbiamo detto E ragazzi Sul nove Poi Ne parliamo E dedichiamo anche un video Vi rimando a video Di questa mattina In cui Allora domani Ci racconta Una notizia Un retroscena Incredibile Sul rapporto Tra l'Inter E Gazzetta Guardate il video Tra poco in sovrappressione Scaricate l'ub Di numero 10 Per vincere la maglietta Da questo link Qui sotto Fatelo numerosissimi E Buon weekend Forza Minan oggi più che mai Domani ancora di più Un abbraccio ragazzi Iscrivetevi anche Al mio canale Personale In cui parlo un po' di tutto Anche di Minan Qui sotto c'è il link Ci tengo Un abbraccio